In calo lì, infortuni sul lavoro, lo stress al centro del seminario, tanti gli eventi organizzati all'interno della settimana europea dedicata ad un tema importante come quello della sicurezza sul lavoro. Il trend è confortante, i dati negativi sono in calo, i settori più a rischio per infortuni mortali sul lavoro, quello legato all'edilizia con gli operai che precipitano al suolo e quelli in agricoltura con i trattori ribaltati. I dati dell'INAIL aggiornati ad agosto di quest'anno viene confermato un trend in discesa del fenomeno infortunistico complessivamente considerato e l'analisi che viene data corrisponde anche un po' alle aspettative. È un fenomeno di riduzione progressiva che va avanti nel tempo, questo non significa che il fenomeno sia meno grave e richieda meno attenzione di quella che c'è stata. Lo stress al centro del seminario di stamattina, ma tante le iniziative messe in campo durante la settimana europea della sicurezza sul lavoro. Tutti i paesi europei, tutto il sistema della sicurezza molto articolato tra datori di lavoro, responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si concentrano su un tema che dura due anni. Questo qui è il secondo anno del tema dedicato allo stress lavoro correlato. Un tema che ha un suo impatto, meno probabilmente conosciuto rispetto a quelli storici dei vari settori, da quelli respiratori, rischi delle malattie professionali, ma di grande impatto e che richiede una grande attenzione.